C'è stato benissimo, però io mi dispiace non essere avanti a me, non so stare a tecnica compiuta, quello che ti posso dire... Non era perché era una risposta a me, era comunque la che si era al contrario a mio parere, no ma io ho capito quanto è l'altro, infatti dico che bella trovata però lo chiede, ma sto cercando di dirti, ma non per scolaggiarti, chiedere poi la risposta è con te lì, abbiamo posto il problema io credo che la cosa possa essere risolta, però non l'ha fatta per la legge nel nostro paese interventi sulla legislazione fiscale ce ne erano 15 al giorno quindi gli articoli 17 e 21 di cui magari sono stati già rinalizzati 85 volte quindi io onestamente non mi è andato a mettere le mani avanti e a dire si fa così o è sicuro così, io quello che so è che, io quello che so è questo e voi non state chiedendo di non pagare le tasse, state chiedendo di non pagare le tasse giuste state chiedendo di non essere voi a farvi caso di un problema che è dovuto ad un ritardo invece di avere noi l'interesse, veniamo tassati però il punto è, come sapete, che la legge ceca e solda o c'è un sistema legittimo attraverso il quale questa tassazione giusta possa essere riconosciuta oppure, oppure, diciamo, bisogna prendere la legge c'è la notizia d'altra, prima che la legge però a me mi hanno detto ecco, di sicuro quello che direi, ma anche voi ancora oggi noi abbiamo avuto piacere di sapere che sono terminanti i pagamenti dei saldi e sappiamo che non è stato pagato quasi nulla non è stato pagato quasi a noi la cosa rilevanta è che per il 2014-2019 abbiamo fatto la discussione della riuscita degli altri due giorni di 17 milioni e 300 milioni di carri con 17 milioni e 200 milioni non ci fa assolutamente i punti perché anche con i criteri restrittivi che hanno fatto tutto quello noi abbiamo, mi fa bisogno, ecco, il mio diritto io sono bravo una reddizione di sicurezza io credo che sia più, 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 più che sia più, 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 più miliardo e mezzo vuol dire 4 volte, non 100 milioni cioè vuol dire 17 milioni e 4 volte cioè vuol dire 68 milioni di euro 70 milioni di euro il 130 è un'unica da dove ne andiamo a prendere? il governo adesso ha mandato una lettera alle regioni dove dice il 15 di novembre fatemi sapere tutte le pratiche che avete acquisito prima del primo di agosto e sappiamo che c'è un'assunzione per portare lo spaziamento da un miliardo e mezzo a due miliardi e sette la ripartizione di queste del miliardo e sette sulla base delle domande già in carico dovrebbe metterci in una posizione di regalità per comunità io so che ci sono due regioni che sono la Salvea e la Calvea che si trovano in una posizione di particolare c'era un tavolo di regia ora questa non vado, scusate, se mi interrogo un po' io vado via perché non c'è più no, ha detto basta grazie io perché questo ci fa capire a tutti dicendo di questa cosa qua due o tre cose mi sarebbe visto velocissimamente l'estremo è uno di 52 miliardi ai nati luggi quando i 2 milioni sono 60 sono diventati 52 perché c'era un altro amico di Porta Paris ma il governo Cappellacci era riuscito con due interventi legislativi con Reginia sottrarre 8 milioni da quel posto e utilizzare l'altra domanda va bene grazie